Ciao a tutti ragazzi, sono Onda Marina e questo nuovo video è l'unboxing del gioco per PSP ovvero PlayStation Portatile che è il gioco Michael Jackson's Experience che vive l'esperienza di Michael Jackson è molto bello ho provato qualche livello e devo dire che è molto bello il dischetto è fatto così questo è il dischetto fatto così e qui c'è il libretto che spiega come giocare ho provato qualche livello cioè all'inizio perché l'ho comprato questa sera e devo dire che è molto bello molto molto anche perché a me piace molto Michael Jackson ho ascoltato e ascolto qualche sua canzone anche se purtroppo è morto dentro così e niente questo è l'unboxing del gioco per PlayStation portatile di Michael Jackson e niente al prossimo video ciao ciao